Questa fiera arriva quasi alla fine dell'estate ma Diano Marina continua a essere una città viva, tutta da visitare. Certo, perché questa fiera era la chiusura di tutte le manifestazioni che potevano avvenire a Diano Marina. Invece con il protarsi della bella stagione abbiamo anche aumentato il nostro calendario di manifestazioni che porterà avanti anche quasi fino a ottobre. Un bilancio di questa stagione turistica, di questa estate? Diciamo che è un bilancio abbastanza positivo, meno degli anni scorsi, però ultimamente ci sono stati gli alberghi pieni, i campeggi pieni, la gente per le strade, vuol dire che Diano Marina ha dato di nuovo una risposta al turismo piuttosto positiva.